Questa mia mostra fa parte della mostra di NCD, dei Masters, Masters in Fine Art and Masters in the Digital World 2014. Ci sono 25 artisti di diverse discipline, dalla pittura alla media, specialmente print. Il mio lavoro per questa mostra è un'installazione, ma è multimediale ed c'è anche un performance. Non solo c'è un performance, ce ne sono sette che succederanno, will take place, durante la settimana della mostra. Ognuna delle performance sarà filmata e diventerà poi un video e il video cresce in durazione durante la settimana. Comincia con 10 minuti e finisce con un'ora. Ok, ma questa mostra quanto dura? Sì, durerà fino al 22 di questo mese, di giugno, qua a, come si chiama, a Emmet House, Thomas Street. Quella Thomas Street. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.